Trovare un luogo nuovo e più consono per ricordare le vittime delle foibe a Brindisi. A chiederlo il comitato 10 febbraio, che come ogni anno si è riunito nella via intitolata ai martiri di questo eccidio, in una strada secondaria del quartiere periferico Sant'Angelo. A partecipare, oltre ai rappresentanti delle massime autorità civili e militari territoriali, anche il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Luigi Caroli e il consigliere Oggiano, rappresentanza dell'amministrazione comunale. Bene, ha fatto il Presidente della Repubblica lanciare l'ennesimo monito al silenzio che gira attorno alla questione foibe e 10 febbraio. Mi risulta che pochissime scuole abbiano voluto celebrare l'evento, pur essendo una legge dello Stato, e questo ci rammarica, così come ci rammarica la scelta fatta da un'amministrazione di centrosinistra tanti anni fa di intitolare i martiri delle foibe una via come questa, assolutamente periferica. È stata istituita con una legge nel 2004, la giornata del ricordo, proprio per ricordare un eccidio, un esodo di nostri connazionali che per troppo anni è stato celato e che oggi sta ritornando prepotentemente alla ribalta, perché la storia è tale e tutti questi fenomeni vanno consegnati sicuramente alla storia, e guardando al futuro dobbiamo sapere da dove veniamo, cosa è successo, quali sono i nostri ricordi. A lei ha toccato un argomento a noi molto sensibile, cioè il fatto di trovarci in una via, tra l'altro abbastanza angusta e proveremo in tutti i modi di spostarla in un luogo adeguato, degno di nota, così come è giusto per ricordare appunto una tragedia che ha segnato l'Italia in quei periodi.